Il treno alta velocità frecciarossa 92-96 di Trenitalia delle ore 15 e 53 per Paris Gare de Lyon è in partenza dal binario 4. Che tu m'aimes mai ancora, c'è quelqu'un che mi ha detto che tu m'aimes mai ancora, sarebbe possibile allora? Che tu m'aimes mai ancora, mi l'attore veramente di che tu m'aimes mai ancora, sarebbe possibile allora? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti